Alla fine la re boschiva conosciuta come Bosco di Capezza nel comune di Sant'Attimo è stata posta sotto sequestro dalla polizia municipale. All'interno del bosco negli anni sono stati sversati i fiuti di ogni tipo, dai pneumatici delle automobili alle lastre di E.T., fino a farlo diventare una vera prova di scarica a cielo aperto. Il sequestro è avvenuto nei giorni scorsi ed è interessato solo una parte del bosco, quella tra via Merite-Serau e via delle Azalee. Ora l'area resta a disposizione dell'autorità giudiziaria, la quale dovrà decidere se confermare o meno il sequestro e le eventuali sanzioni a carico dei proprietari. Dubbi restano sull'assenza del sequestro di un'ala del bosco, che pur ad oggi è ancora interessata dalla presenza di rifiuti di ogni tipo. Grazie a tutti!